Ci sono momenti in cui non importa, senti in lontananza il suono di una campana lenta e ti rendi conto che non importa, non importa dare un nome, un volto, un'età, poteva capitare a chi ami ed egoisticamente ti aggrappi a questo pensiero per far finta di non sentire, ti dici usa la mente, usa la mente e accampi scuse su scuse ma alla fine quel suono lento si sostituisce ai battiti del tuo cuore e abbassi lo sguardo pensando che qualcuno sta piangendo in silenzio e quelle lacrime non potranno toccare un volto, non è giusto ma per la paura tu sei un numero, sta a noi ricordare con un pensiero chi se n'è andato troppo presto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!